Mi aiuti, non riesco a... Ti serve questo? Mi è caduto. Quando inseguivi quell'animale. Ma cosa mi succede? Se... se l'avessi perso... Ma tu l'hai perso. Ci starò più attento, Dorema. Ciao ragazzi! Allora, prima di andare al cuore della video recensione, volevo dirvi due cose. Innanzitutto che sono felicissimo del fatto che siamo riusciti a lanciare gameplay caffè prima della scadenza dell'embargo del gioco. Quindi posso recensirlo anche io, come ho fatto per i precedenti capitoli. La seconda cosa, vi dico di star tranquilli, perché questa video recensione sarà assolutamente priva di spoiler particolari. Eviterò nomi, dettagli approfonditi, personaggi o altro relativi al titolo di Santa Monica. Ecco, quindi mettetevi comodi tranquillamente. E soprattutto si è fatto tanto parlare del gioco negli ultimi anni, no? Per questo cambio di ambientazione, mitologia nordica, e per il gameplay che sembra essere parecchio differente, con una visuale ravvicinata che ricorda un po' i vari Gears of War. Ebbene, sicuramente ci sono diversi punti di differenza, ma anche molti di contatto, e decisamente più coerenza narrativa rispetto a quanto sembri inizialmente. Ecco, abbiamo Kratos, che è lui, assolutamente lui, in termini caratteriali. Schivo, risoluto, incazzato, che pensa al proprio torna conto e a sopravvivere, ma anche dominato dai suoi demoni interni, da questa sofferenza che talvolta lascia trasparire. Semplicemente la struttura è più ariosa, è più moderna, è più da 2018, perché non so voi, ma a me i tre precedenti capitoli, anzi tutti gli altri capitoli, avevano esaltato, però poi con Ascension soprattutto, forse eravamo arrivati a un punto di cottura, no? Una certa fase di stanca della serie che aveva detto tutto, Kratos soprattutto nel terzo capitolo aveva fatto il sedere a tutte le divinità più importanti dell'antica Grecia, mitologica, e di conseguenza già l'Ascension era un po' un surrogato, anche se poi forse aveva un gameplay un po' più rifinito, ecco, quindi forse era giusto provare a fare qualcosa di differente, e ve lo dico subito, God of War per PlayStation 4 è forse la migliore evoluzione che poteva esserci per la saga, a netto di qualche piccolo difetto. Abbiamo una struttura che ricorda, tanto, e preparatevi, sedetevi, Darksiders, Saw River, gli Zelda prima di Breath of the Wild, quindi un Action RPG, un Action RPG che però non propone quest secondarie, un numero enorme di quest secondarie che fanno da riempitivo, che semplicemente mi fanno andare da un punto A a un punto B, bensì si apre in certi punti e propone delle missioni che vanno ad approfondire la mitologia nordica, che vanno ad approfondire il carattere di Kratos e il suo figlio Atreus, quindi vanno ad espandere la formula senza diventare banali o troppo ripetitivi. È una cosa molto molto figa che appunto mi ricorda Darksiders, mi ricorda Saw River e Zelda, è anche una progressione, c'è un grandissimo senso di scoperta, di avventura, di esplorazione, è davvero qualcosa forse di nuovo, fino a un certo punto chiaramente per la saga, e fatto alla grandissima da parte della Santa Monica. Ecco, io avevo qualche timore fino a qualche anno fa, fino a qualche mese fa, ma in realtà hanno fatto un lavoro certosino curando anche dettagli secondari. Infatti, che succede? Abbiamo Kratos, abbiamo Atreus, che per alcune decissitudini sono costretti a muoversi e imbarcarsi in questa avventura. E allora anche il loro rapporto si evolve nel corso del tempo, anche le loro caratteristiche fisiche, le abilità, si evolvono nel corso del tempo. Kratos, vi ho detto, risoluto, che conosce il mondo, sa come muoversi, è anche disilluso. Atreus, che è sempre vissuto allo stesso posto, è più ingenuo, determinato ma ingenuo, fa un sacco di domande al padre, talvolta banali, talvolta stupide. Crede che ci possa essere del buono anche nelle divinità, anche nei nemici, anche negli avversari, mentre Kratos lo riporta sempre sulla Terra. Però entrambi si completano, entrambi evolvono, migliorano durante il corso dell'avventura. Proprio anche a livello di gameplay, perché Atreus utilizza inizialmente soltanto qualche freccia, col tasto quadrato è possibile chiedergli di scagliare delle frecce, poi può cominciare a distrarre gli avversari, può cominciare a saltare in groppa per permettere a Kratos di attaccare indisturbato. sottolinea momenti dell'avventura, fa domande sempre più interessanti, è in grado di leggere le rune, Kratos non può e quindi può dare informazioni sull'ambientazione, diventa più forte, si esalta quando Kratos esegue una combo, una serie di mosse concatenate. Quindi è molto molto figa questa cosa. E Santa Monica si è presa tutto il tempo necessario per raccontare questa storia. Ci sono momenti frenetici, ci sono momenti di camminate, di traversate dove due conversano, semplicemente si apre l'ambientazione e vi fa proprio capire, vi fa vivere quell'esperienza del viaggio. Questo viaggio con i due protagonisti che li porta a incontrare altri personaggi, a connettersi tra di loro, a rivelare cose molto importanti dell'ambientazione e anche della sceneggiatura. In questo caso, sotto questo aspetto, abbiamo un miglioramento abbastanza forte rispetto agli altri di God of War. E non a caso il gioco si finisce in 20, 25, 28 ore, seguendo soprattutto la storia principale, ma addirittura si può andare a 30, 35, 40 ore se si va a fare missioni secondarie o comunque compiti secondari, se si fa l'endgame. Perché non c'è il New Game Plus, però il gioco, una volta che si finisce la storia principale, mette a disposizione nuove cose oppure mette a disposizione il fatto di completare quelle cose che vi siete lasciati indietro durante il corso dell'avventura. Ma ci sono anche diverse attività inedite dopo la conclusione della storia principale, ecco. E quindi è molto divertente, c'è tanto da fare. Si arriva ad esempio in un punto, si può andare dritti per dritti oppure esplorare quello che c'è attorno e quindi scoprire un santuario, scoprire un personaggio, portare a termine una richiesta, ma in maniera anche complessa, ragazzi, non semplice cassa da trovare, è proprio ambientazioni, proprio aggiuntive da questo punto di vista che possono poi chiaramente portare in dono equipaggiamento aggiuntivo, abilità aggiuntive, oggetti e altro. Perché il gioco, vi dicevo, ha una struttura action RPG, Kratos ha un livello, però tranquilli, tranquillissimi, non è il livello da 1 a 99 o a 999 con una pletora di statistiche clamorose. No, 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 assolutamente. Semplicemente tutto l'equipaggiamento, perché c'è l'equipaggiamento, le abilità che si sbloccano, c'è un contenuto albero dell'abilità, concorrono alla creazione di questo livello. Ma ad esempio dopo 10-12 ore di gioco il mio livello era 3, quindi, vedete, molto molto basso. Semplicemente anche a livello estetico, anche a livello di statistiche, gli sviluppatori hanno optato per farvi capire che c'è una progressione. Il leviatano, questa ascia, aumenta di caratteristiche. Tendenzialmente è anche la protagonista assoluta del gioco. Si preme L2 e poi R1 o R2 per lanciarle. Può essere conficcata nei nemici che possono essere frizzati, bruttissimo frizzati, possono essere congelati. Nel frattempo si può attaccare con pugni e calci. Si può utilizzare lo scudo per parare oppure per deflettere al momento giusto le mosse avversarie. Si può correre e quindi saltare. Ci sono mosse concatenate. Ci sono abilità aggiuntive che si ottengono con i punti esperienza. Quindi i punti esperienza servono per l'abilità, non servono per il livello. E tutte queste mosse possono essere messe insieme. Si possono fare delle combo per un sistema di combattimento molto più dinamico rispetto a quanto sembrasse inizialmente. Anzi, si può quindi lanciare l'ascia, attaccare un altro nemico, utilizzare lo scudo, pugni, calci, attacchi ravvicinati, attacchi a distanza, utilizzare Atreus per distrarli oppure scagliare delle frecce. E già il primo boss che arriva dopo un'oretta di gioco vi fa capire che il sistema di combattimento è fluido, molto più fluido. E ci sono nemici che attaccano in contemporanea. Bisogna premere la croce digitale verso il basso per girarsi rapidamente e stare attenti agli attacchi. Quasi tutti possono essere parati o comunque respinti. Alcuni no. Di conseguenza abbiamo un sistema di combattimento molto più complesso, molto più articolato, molto più evoluto rispetto a quello che si è visto in tanti filmati di gameplay rilasciati nel corso di questi mesi, nel corso di questi anni. Quindi davvero una bella sorpresa. riesce anche a restituire quel senso di pesantezza, di cattiveria da parte di Kratos che può squartare qualcuno. C'è forse meno sangue del solito. Però comunque c'è tanta spettacolarità anche forse amplificata da questa telecamera vicino al protagonista principale. Ecco. I boss. Il primo è molto molto figo come combattimento. Ce ne sono altri due o tre. Quello finale è meraviglioso per spettacolarità e sceneggiatura. Ecco. Se vogliamo trovare però un difetto dopo essere stati abituati a God of War 3, qui siamo su un gradino inferiore. Ci sono tanti mid-boss interessanti, anche grandi di dimensioni, però piuttosto standard. C'è grande varietà degli avversari, però non siamo ai livelli di God of War 3. Quindi qui siamo a un gradino inferiore. E poi chiaramente, gioco forza, il ritmo è un po' più diluito in alcuni passaggi che vengono per fortuna inframezzati da roba molto molto pesante, però ecco, chiaro, quando un gioco dura la metà, quando un gioco ha tantissimi boss e ti butta in pista tutte le divinità greche, è chiaro che non puoi essere a quel livello. Di contro, vi dicevo, abbiamo un senso di avventura, esplorazione, coinvolgimento, un approfondimento psicologico dei personaggi ottimo. E tra le altre cose, il doppiaggio italiano è sicuramente superiore alla media. Il tono greve di Kratos forse all'inizio spiazza rispetto a quello degli altri capitoli, ma in realtà è perfettamente integrato con la narrazione e con l'avventura. Ecco, quindi abbiamo davvero un gioco moderno con tante cose da fare, missioni secondarie fatte da Dio graficamente assolutamente di primissimo livello, soprattutto per quanto riguarda la mole poligonale di Kratos, il dettaglio, alcuni tipi di scorci, la distanza visiva, ma anche magari un po' di pulizia e animazioni fantastiche come quelle di Uncharted 4, però siamo sicuramente al vertice superiore per quanto riguarda PlayStation 4. Ci sono due modalità, supporto PlayStation 4 Pro, supporto HDR, si può scegliere tra il frame rate sbloccato tra i 30 e 60 fotogrammi al secondo, oppure il 4K checkerboard o super sampling se avete una 1080p con un frame rate consistente sui 30 fps e qualche rallentamento o qualche scatto, però onestamente non mi ha dato fastidio, ho scelto il 4K checkerboard per avere ancora un impatto grafico superiore, l'HDR abilitato e poi il comparto sonoro, vi ho già detto del doppiaggio, ma anche la colonna sonora è fantastica ed riesce a integrarsi perfettamente con l'ambientazione e con il gameplay. Il tema principale è quello che ho apprezzato per fortuna dal vivo durante l'annuncio all'E3 di Los Angeles con l'orchestra filarmonica veramente possente, fantastico e da brividi, quindi abbiamo a che fare proprio con un pacchetto completo fantastico e il voto 97 ragazzi, 97 come uno dei tanti voti che ho dato in passato per i titoli eccezionali, quasi perfect score, in questo caso un po' per quanto riguarda i boss, soprattutto un po' per il ritmo talvolta leggermente sotto autonomo, ma abbiamo a che fare con una produzione meravigliosa che non mi sarei mai aspettato di questo livello, assolutamente imprescindibile per tutti gli amanti degli action, per tutti gli amanti degli action RPG, per tutti i possessori di PS4, anzi, sto rosicando perché adesso praticamente già l'ho giocato tutto, devo fare qualche attività secondaria e sto immaginando voi che dovete ancora giocarlo, vi sorprenderete, al massimo farete qualche critica soltanto se magari siete super estremisti della saga storica, dei God of War storici, altrimenti, super titolo, super Santa Monica, buon gioco, un buon divertimento e una bella capata in book.